e mi presenta un testo in siciliano, un po' di letteratura siciliana, con un dialogo alla ciattoria. Buonasera Don Tano. Ciao Marcuzzo, come siamo? Io buono, e voi? Un ferro. Don Tano, ci portai sti amici miei che ci diamo a dare a manciare? Assittatevi che ora vengo. Don Tano, stiamo a cura, però questi amici vengono dalla Francia. Lo parano i di pari che non lo capiscono, ma lo mangiare lo capiscono e come? Ma che discorso stai facendo? Assittatevi che ci penso io, pittia e pile amici tuoi. Don Tano, non è che ci fosse lo cuscuso che l'ha fatto in casa? Sì, lo solito fortunato. Giusto intorno, la mia mamma, mi muoge all'istio lo cuscuso che l'ha fatto in casa. Però ci vi riusci pure a farli assaggiare? Ti giù meo, però orrai a fare pippa. Ti lo dico io zocco, hanno a mangiare, cuscuso, bussigliati alla norma, cozzi scoppiati, vino bianco con usciano, cassatevi con la ricotta e... studiate l'humus. Sì,